Ciao a tutti, la mia ex mi sta ancora pensando che fosse interessata ad avere una risposta a questa domanda, segue il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. Una carta 1, una carta 2, una carta 3 e una carta 4. Adesso concentrati su questa lei della quale vuoi sapere, della tua ex, nella quale vuoi sapere se ti sta ancora pensando, Dopodiché scegliere la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4? Perché ha scelto la carta 1? No, ha in testa un altro uomo, assolutamente ha in testa un altro uomo. Ha scelto la carta 2? Sì, diciamo che ti sta pensando e sta pensando come sarebbe stato bello che ci fosse stata un'unione tra voi. Che ha scelto la carta 3? Diciamo che qualche pensiero te lo dedica non intenso come tu vorresti. Che ha scelto la carta 4? Ma è una persona che pesca nel torbido, quindi non ti dedica assolutamente pensieri come probabilmente non ti ha mai dedicato troppo durante la relazione. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!